Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi 5 marzo 2019. I temi della giornata sono tutti un post Zingaretti. Giornali noiosissimi, quindi oggi il mio servizio sarà doppio perché vi farò risparmiare tempo, perché i giornali potrete non leggere, riposto che di interessante c'è, pensate un po' voi, al commento di Zingaretti del giorno dopo. Il neo segretario del PD che è ufficiale, ha preso 1.650.000 persone che si sono presentate in gazebo e quindi come direbbe qualcuno, buongiorno a Rita, come direbbe qualcuno, insomma questi gioiscono quando perdono, perché è il dato più basso di affluenza da quando le primarie nel 2007 sono state inaugurate. Ma sono molto contenti perché in realtà quello che è successo forse è lo scampato pericolo, cioè l'idea che il partito si estinguesse. Il partito non si è estinto, evidentemente visto l'affluenza che ci ha avuto comunque 1.700.000 persone, non so quale partito sia in grado di attivare per delle primarie in questo paese, anche per il suo DNA il partito di Zingaretti ci resta. E qui qual è il punto fondamentale dei giornali? Tutti i giornali oggi, buongiorno a William, che cosa fanno? Tutti i giornali oggi si interrogano sul fatto che Zingaretti possa o non possa fare un patto col Movimento 5 Stelle, o viceversa, come mi sembra scriva, questa è la tesi diciamo di Belpietro sulla verità, Zingaretti e Grillini, primo flirt, obiettivo spaccare il Movimento. L'altra parte invece di persone pensa che il Partito Democratico potrebbe diventare appunto il secondo fronte del Movimento 5 Stelle, cioè mollare la Lega per andare a fare un'alleanza con il Movimento di Zingaretti. Altre ipotesi surreale, ma il titolo forse più surreale oggi è quello di Repubblica, il mio PD per governare. E beh, certo, perché cosa l'ha fatto il suo PD? Per fare la frutta? Per fare l'opposizione tutta la vita? Il mio PD per il governare, virgolettato, come i virgolettati di Repubblica siamo abituati da ieri in poi a capire che valgono zero, intervista di Orban, in cui dice Salvini ha una linea, diciamo, ondivaca, cosa che non scrive ieri Repubblica, cioè fanno titoli su cose che non scrivono. Oggi le virgolette le mettono nel mio PD per governare, a parte che voglio dire chi è che fa un partito non per governare, cioè voglio capire nella testa del titolista, ma comunque sia. Folli dice che però in realtà la prima mossa che ha fatto ieri Zingaretti andare a Torino a fare la TAV con Chiamparino, quindi la prima mossa è subito contro il Movimento 5 Stelle. Ma dice che Di Maio è stato molto abile ieri, in effetti, a tendere una mano a Zingaretti sul salario minimo, sulla quale la sinistra è ovviamente d'accordo. Sono comparsi poi, diciamo, le friandise di questi commenti e che sono poi comparsi, sono spuntati come funghi quelli che Renzi aveva, secondo me, in maniera sacrosanta fatto fuori. Non tutti, ovviamente, perché c'è una grande parte del PD che è stata fatta fuori senza senso, però ritrovarsi Prodi che ci rispiega per l'ennesima volta che sul Corriere della Sera è super intervistato, che è super contento, che questo PD gli è piaciuto, che c'è stata una rimonta, che adesso il PD esiste, eccetera, dà il senso che forse qualcuno sta ritornando all'interno del PD. Tornano gli artisti, per esempio, mi sembra che oggi sia lo Papa o chi per lui che scrive un pezzo, con tutte le foto degli artisti, che dopo una piccola sbornia, la sbornia è sempre a sinistra che prendono gli artisti per il momento 5 Stelle, adesso ritornano gli artisti a casa, la Ferilli, la Sandrelli, Benigni, peraltro Benigni, secondo me c'è sempre stato in quella casa, quella del PD, del Partito Comunista, insomma, è sempre quella storia là. Poi ci sono super ritratti di Zingaretti, Zingaretti con la mamma comunista e con i figli. Io trovo fantastico, vedete, trovo fantastico che dire che la propria mamma è comunista in questo paese dà quasi un sapore, mi sembra che sia Merlo che lo racconta su Repubblica, la mamma comunista che ha fatto i due figli, uno che fa Zingaretti a Rai uno e l'altro che fa, Montalbano a Rai uno e l'altro che fa Zingaretti prima nella provincia di Roma, poi alla Regione e poi oggi segretario del PD, ma la mamma comunista, fino a prova contraria, è come dire, non so, tu hai avuto tua mamma fascista, mettiamoci d'accordo, vanno tutti bene, ma la mamma comunista secondo me non è una cosa, come posso dirvi, cioè c'era un'Italia che non era comunista, c'era un'Italia che pensava che i comunisti erano sovietici a quell'epoca, soprattutto all'epoca della mamma di Zingaretti, c'è un'Italia che non voleva i comunisti, c'è un'Italia dei comunisti che pensava che le foibe non ci fossero state, c'è un'Italia dei comunisti che i nostri esuli dalmati estriani li prendeva a male parole quando rientravano nella loro patria, c'era un partito, quello comunista che era legato a Stalin, a Lenin, a quella roba lì, a quell'idea di governo del mondo che era la cosa più lontana del mondo per un liberale, un democratico, però la mamma comunista oggi è chic, per fortuna che aveva una mamma comunista. Sulla TAV ovviamente lui va lì e fa un'operazione sacrosanta da chi vuole la TAV, Zingaretti viene ovviamente pizzicato dal fatto quotidiano che continua a dire le solite cose che dice soltanto ormai il fatto quotidiano, Macron non ha messo un euro sulla TAV, fantastico, si sono fissati su questo fatto che i francesi non hanno messo un euro sulla TAV, l'hanno già scavata, l'hanno già fatta, arrivano 300 milioni dall'Europa, se entro l'11 marzo facciamo questi bandi e questi qua continuano a dire, sembrano i titoli ormai di Repubblica quelli del fatto, nel senso che sono verosimili quanto mia nonna, non comunista, e dicono questi signori che non ci mettono un euro sulla TAV, hanno già costruito mi sembra 27 chilometri di gallerie, ma insomma Letta pure ritorna nel PD da segnalare, lui forse è l'unico che ne abbia ragione perché è stato trattato talmente male da Renzi e talmente tanto preso per i fondelli che ha una certa solidarietà, diciamo, di orgoglio con Enrico Letta. La fondazione IUM, quella di Enrico Olfi, ricorda oggi in grande apertura sul giornale che in realtà dal 4 marzo, cioè da quando hanno visto, hanno vinto queste elezioni, cioè quindi in realtà ancora non governavano, però ha preso come punto di riferimento le elezioni, fino ad oggi l'Italia avrebbe bruciato 170 miliardi, 67 miliardi in borsa, 43 miliardi di interessi maggiori da parte dello Stato e 50, o anche riduzione del valore dei titoli di Stato, 50 miliardi famiglie e banche. Bah! E soprattutto sui 50 miliardi famiglie e banche ho qualche dubbio, però ricordatevi che quello che si brucia, si brucia solo quando si vende. Detto questo, qualche cosa ovviamente sul prezzo dei nostri titoli di Stato è effettivamente avvenuto per la follia iniziale della manovra fatta da questi qua. Quota 100, l'unica cosa interessante oggi su 13 di denanza è quota 100, la scrive il messaggero perché dice che quota 100, quella per cui si va in pensione a 62 più 38, oppure 63 più 38, oppure 64 più 38, quindi sarebbe corretto definirla quota almeno 100, insomma la quota d'Urigon, come la chiamiamo noi, in realtà sta avendo un successo mostruoso, soprattutto tra gli statali, sarebbero secondo il messaggero 100 mila i dipendenti pubblici che se ne vanno con un piccolo problema, che non riusciamo a sostituirli. Allora tutti adesso si danneranno, ah come facciamo, io ci godo, ci godo, bisogna affamare la bestia, farle fare di meno, dobbiamo riuscire ad avere meno dipendenti pubblici, perché sono delinquenti dipendenti pubblici? No, al contrario, perché così funzioneranno meglio gli uffici pubblici? Quindi purtroppo no, è evidente che se c'è meno gente funzioneranno male gli uffici pubblici, ma il punto fondamentale è questo, vale purtroppo per gli ospedali, vale per l'istruzione, vale, però non abbiamo alternativa, cioè oggi già il 50% dei nostri soldi sono intermediati dallo Stato, dobbiamo ridurre il peso dello Stato, o con le buone o con le cattive, chiaro? Partiamo dalla riduzione, ma non sarà così, dei dipendenti pubblici arriverà la buongiorno e ne rimetterà 100 mila dentro senza concorso o attraverso i loro criteri assurdi, per cui i concorsi del passato non valgono, fanno i concorsi nuovi che fottano quelli del passato e tutte queste specie di norme che io neanche voglio comprendere, ma che portano soltanto al pensiero di una persona di buonsenso che nella pubblica amministrazione c'è un gran casino. Fubini, oggi ve lo segnalo, è molto interessante il suo pezzo perché dice l'Olanda, cioè il paese che fa le pulci sull'austerity dell'Italia, ma di tutti gli altri, e sul fisco e sulla tenuta dei conti di tutti i paesi europei, che fa così col ditino, gli olandesi, secondo un timido rapporto della Commissione europea, che Fubini legge e amplia nei toni, sono il paese che sta togliendo ai paesi europei imposizione fiscale, cioè sta attirando aziende del resto dell'Europa, la Fiat è una di queste, oggi si chiama FCA, perché è un paradiso fiscale, quindi da una parte fanno i moralisti, dall'altro fanno i furbetti, questo lo dico io, non lo dice così chiaramente Fubini, ma si capisce che il senso è questo, per quale cavolo di motivo tu olandese rompi le balle a tutti che non riescono a tenere i conti a posto e tu i conti a posto come li tieni facendo pagare di meno soltanto alle multinazionali, quelle grosse che vengono a te e fanno la sede legale da te, è giusto questo? È corretto in una comunità europea? Ma insomma, Fubini e non solo lui si pone qualche dubbio. Ringrazio tutti quelli che ieri hanno partecipato a Quarta Repubblica, era una serata complicata con tante cose alternative in televisione, ma sono stati come sempre tanti, io vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it dove ci sono le notizie di giornata, questa zuppa tra poco e tanti altri ospiti che come sempre riempiono il nostro sito di quell'enclave liberale che penso a che a voi piaccia. Ciao!